Siamo con il dottor Cataldo Formaro, già direttore del centro analisi dell'ex ospedale di Cariati. Quali sono le problematiche della sanità territoriale dovuti anche al mancato ripristino dell'ospedale? E' a tutti noto che con la chiusura dell'ospedale di Cariati si è determinato, in tutto il territorio che gravita su questo comune, e cioè i paesi dell'entroterra e buona parte del crotonese, una grave carenza di servizi sanitari e di offerta sanitaria. Mi riferisco non solamente alla chiusura dei reparti, ormai avvenuta da circa dieci anni, ma anche allo stato di assoluta sofferenza in cui le strutture rimaste si trovano. Allora abbiamo una situazione drammatica nell'RSA, abbiamo un laboratorio praticamente di fatto chiuso e trasformato in un centro prelievi, un pronto soccorso declassato appunto di primo intervento ed una radiologia senza medico da due anni che quindi non è più in condizioni di erogare prestazioni ambulatoriali ed eroga solamente qualche decina di prestazioni al giorno richieste dal punto di primo intervento. Fra le prestazioni ambulatoriali della radiologia c'erano anche le prestazioni di mammografia e di ecografia mammaria eseguite dall'unico medico in servizio che era il dottore Ferraro che da circa due anni ormai è in pensione. Venendo meno la figura del medico si è interrotta questa attività con una ricaduta drammatica di cui ancora non conosciamo i numeri precisi ma che è facilmente induibile sulla salute delle donne e sull'incidenza di una patologia come quella del cancro mammario che è il tumore più frequente nelle donne. Ora questa è una situazione assolutamente allarmante che non è legata come si vorrebbe far credere alla emergenza Covid perché se è vero che a livello nazionale l'emergenza Covid ha rallentato tutta una serie di prestazioni ed anche le campagne di screening in questo periodo, per quanto riguarda invece il nostro ospedale, il nostro territorio, questa è una condizione strutturale perché non essendoci il medico non c'è all'orizzonte nessuna possibilità che questa attività possa riprendere. Io naturalmente lancio un appello alle autorità sanitarie preposte che sono rappresentate dall'azienda sanitaria di Cosenza, che è rappresentata dalla struttura commissariale, dalla regione e non ultima anche dal ministero, affinché le donne di questo territorio abbiano le stesse chance nei confronti di una malattia così terribile di tutte le altre donne d'Italia.